Ci saranno tutti i vari concettini live, ci sono due gruppi di flash mob che tireranno per le vie che sono molto carini, poi ci sarà la sfilata di moda che quest'anno abbiamo avuto una collaborazione con l'organizzatore Maurizio, la sfilata di moda Miss Blumare con la collaborazione del Comitato di Love Shopping che si farà all'incrocio di Via Town de Rerel scendendo in giù, tra il bar Raora, Bert Burger, Lazio di Piste e quant'altro, la diretta con Radio G, dopodiché ci sarà la premiazione della Miss, ci fa piacere perché quest'anno ci sarà una giuliese, una ragazza carinissima che parteciperà, mi auguro che vinca lei, abbiamo anche una vincitrice giuliese e dopodiché le vincitrici della sfilata verranno qui a mezzanotte al palco centrale dove prima del concerto di Via Anello saranno ripremiate di nuovo e le presenteremo al pubblico, quindi il concerto di Edoardo Via Anello partirà qui a mezzanotte, poi ci sarà il concerto lì davanti alla piazza del Venere del All Stars, che comincerà pure verso l'undici e mezza, mezzanotte, poi anche sul lungomare avremo diversi eventi, ci sarà una script band, poi si sono organizzati anche loro con altre cose, se ce le vuole dire Stefano dopo, quindi sarà una serata diciamo bella, carina, se ci tengo a precisare che non abbiamo ammesso diciamo furbonati o banti esterni perché penso che oramai si debba andare su una tipologia di eventi che non debba per forza essere diciamo incentrata sempre sul bere, sul tipo, diciamo una tipologia sagra.